Il confronto deve arrivare prima e non dopo che i provvedimenti sono stati avviati e comunque dobbiamo ancora capire come bisognerà muoversi a livello procedurale con le eventuali deroghe. A parlare è Marzio Marelli di ACUS, associazione civica utenti della strada, sezione disabili. Il tema sono le nuove aree pedonali di Como, le zone interessate sono Piazza Grimoldi, Duomo, Verdi, Cavuro e Volta, entrate in vigore lo scorso 18 febbraio, nelle quali è stato esteso il divieto di circolazione anche ai veicoli a servizio dei disabili. Nelle scorse ore si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale e gli esponenti di alcune associazioni, tra cui la Leda, Lega per i diritti delle persone con disabilità, i cui vertici hanno diramato un comunicato in cui si dice che sono stati chiariti i punti chiave dell'ordinanza, dalle informazioni ricevute è emerso che le norme sono state applicate in maniera corretta, scrive il presidente Viviana Tombolillo, con la possibilità di derogare il divieto nel caso in cui una persona disabile sia residente o debba passarci. Secondo le dichiarazioni degli amministratori, tutte le persone disabili, si legge ancora, sono state contattate preventivamente ed è stata prevista la sanatoria per casi di accesso motivato e urgente senza preavviso. Soddisfatta della riunione anche l'assessore alla viabilità del comune di Como, Daniela Gerosa, che fa mia colpa però ammettendo che sarebbe stato meglio confrontarsi prima con le associazioni, evitando preoccupazioni e strumentalizzazioni. Bene i chiarimenti, tuona Marzio Marelli di Acus, ma non si può correre ai ripari sempre dopo, l'amministrazione deve coinvolgere le associazioni prima di attuare i provvedimenti. Anche con il ponte di via Badone ci siamo trovati nella stessa situazione. Noi peraltro all'incontro non eravamo stati invitati e comunque nessuno ha ancora spiegato come effettivamente si dovrà procedere con le deroghe e la sanatoria. In ogni caso per noi non finisce qui, dice ancora Marelli, l'ordinanza va chiarita in tutti i suoi aspetti perché, ribadisce, non è ancora stato precisato cosa bisogna fare a livello pratico.